Don Venanzio, il prossimo 2 aprile lei compirà 90 anni, come si appresta ad affrontare questa importante tappa della sua vita? Innanzitutto ringraziando il Signore di questo grande dono che ho ricevuto, che è la vita, del dono che mi ha dato di poterlo servire, soprattutto servire nella Chiesa, dando quelle che sono le mie risorse, anche se modeste, che le ho date certamente volentieri e le ho date volentieri per i carissimi cisonesi che porto sempre nel cuore, perché porto tutti nel cuore e ai quali in questa circostanza della Pasqua faccio i miei più cordiali auguri, perché in ogni casa e in ogni cuore ci sia la pace del Signore e che si reporti a tutti con la salute, tanta gioia e tanta serenità. Auguri carissimi a tutti. È un momento molto particolare per la parrocchia di Cison, il suo successore Don Piergiorgio Camillotto versa in gravi condizioni. Cosa si sente di dire a Don Piergiorgio e ai cisonesi? viviamo questo momento di dolore, di sofferenza, perché indubbiamente sapere che questo caro sacerdote vive questo dramma così tremendo in attesa di un passaggio da questa vita che è certamente grande. Noi lo accompagniamo con la nostra preghiera, non dobbiamo dimenticare il bene che ha fatto e che continua tutt'oggi a fare questo sacerdote, non dimentichiamolo, a cui dobbiamo tanta gratitudine e tanta riconoscenza. Ecco perché preghiamo per lui. Grazie a tutti.